Grazie Presidente. Il punto all'ordine del giorno di oggi riguarda il nuovo piano faunistico venatorio. È praticamente il piano regolatore che riguarda non solo l'attività venatoria, è bene ricordarlo, ma riguarda anche la tutela della fauna selvatica. Quindi a questo doppio aspetto tutelare la biodiversità, la fauna selvatica, la legge la chiama fauna omeoterma, cioè a sangue caldo, e poi programmare l'attività venatoria. Questo è uno dei momenti che quest'Aula dovrebbe legiferare ogni cinque anni, perché le normative statali, ma anche la nostra normativa regionale, dice che un piano faunistico venatorio dura cinque anni, come sono previsti dei limiti temporali per altri tipi di piani e questo naturalmente vale a maggior ragione se si pensa che sia a che fare con un territorio. Un territorio che è continuamente in evoluzione, un territorio come quello della regione Veneto, che è soggetto al consumo del suolo. Siamo una delle regioni dove il consumo del suolo ha creato più problemi, ha creato più danni. Si tratta di un piano faunistico venatorio approvato con la legge regionale 1 del 5 gennaio 2007. Quindi questo è stato approvato in Aula nel 2006, questo piano faunistico venatorio. Ed è scaduto il 9 gennaio del 2012. Quindi è scaduto ormai cinque anni fa. Ed è stato riesumato, concedetemi il termine, grazie a proroghe su proroghe su proroghe. Ma va anche ricordato che questo piano nasce da dei monitoraggi, degli studi, delle delibere, delle province, grazie a dei piani faunistico venatorio provinciali che riportano una situazione e dati del 2004. Quindi noi stiamo riesumando per l'ennesima volta da cinque anni a questa parte un piano che nasce nei contenuti nel 2004, vecchio di 13 anni, scaduto nel 2012. Quindi un'ennesima proroga di uno strumento urbanistico che va rinnovato ogni cinque anni. Quindi andiamo in deroga. Attenzione, mi rivolgo soprattutto all'assessore perché questa volta bisognerà mettere veramente i puntini nelle I, anche nell'applicazione delle norme, che il calendario venatorio concede determinate possibilità se c'è una corretta gestione programmata dell'attività venatoria. Se andiamo a fare un calendario venatorio con un piano faunistico venatorio vecchio di 13 anni, attenzione, io penso che certe possibilità concesse dalla legge non si possono più applicare. Ma che cosa è successo in questi anni? Siccome stiamo parlando di gestione programmata della caccia e dell'attività venatoria e della tutela della fauna selvatica, abbiamo una suddivisione dei territori in ad esempio ambiti di caccia, comprensori alpini, poi abbiamo le zone di tutela della fauna di diverso grado, le osi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e quant'altro. In questi anni sono accadute delle cose che hanno modificato sul territorio in maniera sostanziale i confini di questi ambiti di caccia, di queste zone di popolamento e quant'altro, perché perlomeno il suolo, perché sono state eseguite e realizzate delle opere importanti, mi riferisco ad esempio alla superstrappe di Montana Veneta, alla Valdastico Sud, interi di questi istituti faunistico-venatori sono stati in qualche modo divisi in due, spezzettati, ci sono diverse aree divise tra loro che prima erano aree unitarie. Poi va anche detto che c'è stata una certa diminuzione diciamo demografica di chi pratica l'attività venatoria, ma poi ci sono stati degli effetti che prima non c'erano negativi sulla fauna selvatica, ad esempio effetti dovuti ai cambiamenti climatici, effetti dovuti a sbalzi di temperature alle quali non eravamo abituati, a precipitazioni intense alle quali prima non si erano abituati, che hanno delle ripercussioni sulla fauna selvatica, sugli uccelli migratori non da poco. Nel frattempo sono arrivate nella nostra regione specie prioritarie, ovvero tutelate da direttive europee, ad esempio la direttiva Habitat, come il lupo, l'orso e la lince. Quindi abbiamo un piano che andiamo a riesumare e a prorogare, un piano che fotografa una realtà che non esiste più nel territorio. Nel contempo molte popolazioni di diverse specie, soprattutto uccelli migratori, sono quasi sparite dal nostro territorio, sono calate. Ad esempio un uccello migratore cacciabile che ha subito una diminuzione fortissima, non lo dice solo l'ISPRA, ma lo dicono anche tutti i siti online degli appassionati di caccia e la lodola, che è considerata in declino in tutta l'Europa. Poi il passero praticamente è quasi scomparso. Ricordo che grazie a questa regione, ma non solo, il passero è stato, pur essendo protetto dalla direttiva europea, è stato cacciato per anni. Adesso stiamo raccogliendo un po' i risultati. E risulta evidente, pertanto, che questa proroga non è in linea con la legge 157, con i principi fondamentali della programmazione faunistico-venatoria, che prevede la legge quadro sull'attività venatoria e tutela della fauna selvatica. In questo vecchio piano, tra l'altro, ci sono degli obrobri, perché per raggiungere le percentuali minime di area protetta previste per leggi abbiamo inserito, cioè sono stati inseriti dalle precedenti colleghi, con l'approvazione del vecchio piano centri abitati, zone industriali, addirittura aeroporti militari o specchi d'acqua, dove la fauna mai e poi mai può sostare o riprodursi. Ma di che regione stiamo parlando, Assessore e colleghi? Stiamo parlando della Regione Veneto che in tema di aree protette, che sono una delle parti fondamentali di questo piano, le aree protette, per quanto riguarda i parchi, siamo al 5,3% di territorio, contro una media nazionale del 20, oppure il 19% del Friuli, il 15% della Lombardia. Quindi siamo una delle regioni fanalino di coda per quanto riguarda la tutela del nostro territorio. C'è veramente da chiedersi perché non siamo riusciti per l'ennesima volta ad approvare un piano, perché appunto per questo piano che era stato licenziato nella presente legislatura ma non approvato, erano stati spesi anche dei soldini. Poi per quanto riguarda i danni alla fauna selvatica, è giusto ricordarlo a tutti i colleghi che magari non se ne intendono di caccia o di fauna selvatica. È vero sì che ci sono delle specie che creano danni all'attività venatoria, ma guardate che sono circa 40-45 le specie cacciabili e quelle che causano danni sono 2, 3, 4. Tra queste una delle maggiori imputate è la lepre, risulta dai dati della bozza di piano approvata precedentemente grazie a un monitoraggio che è stato fatto sulle procedure di indennizzo danni. La lepre, ma nessuno mai ha fatto leggi contro la lepre perché la lepre è una specie cacciabile. Poi c'è anche da dire, e questo è un altro punto per il quale siamo intervenuti con un ammendamento che questa proroga avrà degli effetti negativi anche sui diritti di alcune categorie di cittadini, ovvero su chi detiene, possiede dei terreni agricoli o dei terreni nei quali vogliono vietare l'esercizio venatorio. C'è una norma che è prevista sia dal piano faunistico venatorio che andiamo a prorogare sia dalla legge regionale sia dalla legge nazionale sull'attività di caccia e tutela fauna selvatica che dà la possibilità ai privati di chiedere il divieto di caccia previa posizione di tabelle e autorizzazione, previa autorizzazione della regione, nei propri terreni appunto facendo una domanda. Ma questa possibilità viene data solo quando c'è l'approvazione del nuovo piano ma l'ultimo piano l'abbiamo approvato è stato approvato nel gennaio 2007 quindi è dal gennaio 2007 che chi ha un terreno e volesse far applicare questa norma non lo può fare cioè c'è un diritto violato quindi un diritto che viene violato da diversi anni a ogni proroga questo diritto viene calpestato viene totalmente calpestato e quindi con un emendamento ci sarebbe la possibilità di aprire questa finestra temporale di 30 giorni per chi dal 2007 ad oggi pensate sono passati dieci anni è venuto in possesso di un terreno sul quale vuole vietare l'attività venatoria e questa è una richiesta che non viene accolta automaticamente sapete perché deve essere corredata da una relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato e può essere fatto solo per casi limiti sono quattro i casi allora tre casi riguardano gli agricoltori perché riguardano a colture agricole specializzate b produzione agricole condotte con sistemi sperimentali c produzione agricole con fine di ricerca scientifica e d e qui andiamo oltre gli agricoltori quindi cittadini comuni che hanno interessi economici sociali o ambientali che ritengono suscettibili di danno o di disturbo grazie all'attività venatoria ecco quindi abbiamo lo prevede la legge allora nella relazione a questa legge viene scritto a un certo punto che ci sarà una fase di interlocuzione anche con livello provinciale degli stakeholders questo lo scrivete voi associazioni venatori agricole ambientaliste ambiti territoriali di caccia bene con questa proroga vengono salvaguardati i diritti delle associazioni venatorie dei cacciatori i diritti degli ambiti territoriali di caccia ma i diritti degli agricoltori e dei cittadini non vengono salvaguardati quindi è una proroga che di fatto crea e divide i cittadini in due categorie di serie a e di serie b serie a che vedono garantiti i propri diritti serie b che li vedono ancora posticipati e dieci anni che queste gente magari che è venuta in possesso per le dirittà o per acquisto a un terreno dietro casa o si è comprato casa e così via non può attuare questa questa facoltà che gli viene data dalla legge legittimamente mentre la proroga per le altre per le altre categorie concede e riconosce i diritti di andare a caccia quindi la legge dovrebbe essere uguale per tutti questa è a mio avviso una ennesima violazione dei diritti dei cittadini quindi sempre norme a senso unico sempre norme a senso unico io penso che il diritto di poter vietare la caccia riconosciuto la legge sia un diritto che dovrebbe essere riconosciuto senza problema alcuno la legge però è stata modificata diverse volte il piano non l'abbiamo fatto questa giunta non ha fatto il piano non lo porta al consiglio per l'approvazione però questo consiglio di leggi in questa in questa legislatura sulla caccia ne ha fatte molte io ho cominciato a segnarnele e devo dire è una lista che non finiva più appostamenti precari fatta la legge appostamenti fissi fatta la legge sulle nutri e fatta la legge la vecchia proroga del piano l'abbiamo fatta nomadismo venatorio caccia dannatante addestramento cani con abbattimento tutto l'anno accesso delle associazioni venatorie non riconosciute nei comprensori nei direttivi dei comprensori alpini deroghe alle opzioni di caccia fatta anche questa poi eradicazione del cormorano poi ampliamento delle associazioni che possono occuparsi di allevamento di fauna protetta poi per l'ultima sanzioni sul disturbo venatorio per non per non parlare delle norme sul parco dei colli e parco dell'arsina che bene o male qualcosa a che fare con la fauna selvatica e la caccia hanno perlomeno nelle intenzioni di chi le ha proposte e anche di voi che dopo le avete approvate quindi la cifra era di 183 mila euro stanziata me l'ero segnata qui per un piano che non è poi stato approvato l'approvazione non si è trovato il tempo di approvare il piano regolatore della caccia è da anni che non si trova il tempo però solo in questa legislatura c'è una lista di norme norme te legge legine che non finisce più quelle il tempo per farle per pensarle per portarle in commissione per portarle in consiglio quello il tempo si è trovato il tempo invece per il piano regolatore della caccia quello no quello no in cinque anni a forza di proroghe è successa anche un'altra cosa ci siamo mangiati un intero piano adesso noi dovremmo approvare un piano dopo i cinque anni di vecchio piano ma in realtà il piano è durato dieci anni il doppio di quello che doveva durare tant'è vero ripeto abbiamo una situazione fotografata in questo piano che non esiste più fa parte del passato quindi quello che dico è quando questa giunta quando questo consiglio vorrà veramente applicare queste leggi io parlo solo di applicazione di leggi non ho parlato di posizioni ideologiche sulla caccia ma di norme la legge parla chiarissimo il piano va fatto ogni cinque anni siamo al decimo anno e siamo ancora qua in quest'aula per prorogare prorogare un altro anno questo piano nel vostro programma naturalmente non c'era questo ma si sa è un obbligo quello di approvare i nuovi piani ma non c'era nemmeno quella sfilza di legge e leggine che abbiamo approvato io di fatti mi chiedo ogni tanto se esiste una regia su quelle che sono le attività consigliari relative a materia della caccia perché mi pare che ci sia perlomeno un'anarchia ma sicuramente una cosa non sta passando inosservata è l'attività di quest'aula su queste leggi noi pensiamo che i cittadini non se ne accorgano ma in realtà ormai la voce si è sparsa gli elenchi delle leggi approvate da questa aula cominciano a girare il fatto che questo piano per l'ennesima volta verrà rinnovato violando i diritti di parte di cittadini una parte importante quelli che hanno i terreni gli agricoltori o chi ha un terreno e che volesse un giorno poterne vietare l'esercizio venatorio cosa prevista la legge anche questo un diritto che viene violato io credo che dovreste un po' fermarmi fermarvi a riflettere un po' su quello che sta accadendo perché come è accaduto ad esempio sulla questione delle sanzioni per il disturbo venatorio qualcosa fuori dal palazzo è passato siamo un po' troppo abituati forse a fare le cose all'interno del palazzo nessuno se ne accorge la facciamo franca e intanto se uno va a vedersi le modifiche della legge regionale sulla caccia arriviamo ormai una ventina di modifiche e tutte quante a senso unico quindi quando applicheremo anche qui in Veneto le norme che riguardano la tutela della fauna e la tutela dei diritti dei cittadini quando quando io penso che siamo comunque in ritardo ma naturalmente sta a voi che siete in maggioranza a lei assessore decidere per cambiare un po' rotta per cambiare verso perché effettivamente la strada che si continua a percorrere qua dentro a mio avviso è una strada che prima o dopo porterà qualcuno a sbattere grazie a tutti